I nostri ospiti per la prima verso voi. Adesso vorremmo spendere qualche parola un pochino per affrontare anche quest'anno la presentazione del progetto ABC Cardiologia che stiamo facendo partire anche di partito questi giorni in tutte le classi quinte del territorio del Comune di Puglia. La sequinte significa bambini di 11 anni di scuola elementare. È un progetto che vede riuniti gli attori che oggi sono rappresentati dal Rotary Club che rappresentato dal Presidente Zeradore e dalla Banca di Credito Cooperativo che è rappresentata dal Dottor Rovigatti che rappresenta l'ufficio marketing il Dottor Vaglie che rappresenta l'unità complessa di cardiologia delle locali ASL e il Rotary Club che è rappresentato dal Presidente accompagnato dal Signor Corrieri. L'amministrazione comunale ha voluto anche quest'anno sostenere in modo molto simbolico ma con grande allesione questo tipo di progetto. Il Dottore fra poco vi spiegherà meglio le finalità. Io credo che si debba far presente che è un'esperienza oggi arrivata al secondo anno che ci ha dato grande soddisfazione nell'organizzazione e soprattutto nell'attenzione da parte dei destinatari del progetto. È sicuramente uno screening e un'opera di prevenzione ma si è anche rappresentata come un'operazione di educazione allo spazio psicologico di libero movimento ossia raggiungere quegli standard di maturità e di giusto rapporto tra un bambino di preadolescente e il medico e il servizio sanitario. È riuscita a mettere in moto una certezza abbastanza condivisa da parte dei medici di base che hanno acquisito l'elettrocardiogramma elaborato dalla struttura. È riuscita a affrontare una questione che potrebbe essere scabrosa qualora scoppiasse nei modi di cui ci parlerà adesso il dottor Valle al quale, se il presidente consente, diamo la parola poi lei magari chiude il progetto. Grazie professore. Allora, l'iniziativa è stata voluta l'anno scorso questo è il secondo anno in cui la facciamo e mira in qualche modo ad escludere che qualche cardiopatia congenita sia sfuggita allo screening che peraltro è estremamente attento e di grande qualità che viene fatto dalla pediatria negli ospedali al momento della nascita. Ogni millenati da 5 a 10 hanno una cardiopatia congenita in genere, ripeto, viene trovata al momento della nascita ci sono però le cosiddette bucce che sono le cardiopatie congenite dell'adulto che sono sfuggite e si manifestano avanti. Ecco, l'iniziativa vuole in qualche modo cercare di evitare questa cosa cioè di fare un secondo filtro e all'età di 11 anni scrinare tutti i bambini che sono stati circa 500 l'anno scorso circa 500 saranno quest'anno mediante un elettrocardiogramma una visita che viene fatto rispettivamente dal nostro coordinatore che è il dottor Bosco e dalla dottoressa Berilacqua che è la cardiologa ripeto, ECG, elettrocardiogramma da cui il nome dell'iniziativa e visita cardiologica che vogliono proprio escludere che qualcosa sia sfuggita la maglia del primo setaggio la speranza di non trovare nulla come l'anno scorso di importante qualche piccola cosa si trova sempre cose che si sistemano, si mettono a punto nell'idea di dare un servizio alla città grazie all'insostituibile aiuto dei partner che abbiamo presenti e come diceva giustamente il professor De Perini vi sono anche altri due aspetti uno è quello di educazione in qualche modo del bambino del preadolescente al contatto con la sanità in una maniera non stressante non di accesso per esempio al pronto soccorso ma di intervini educativi che è molto positivo l'altro è una valutazione che può essere utilizzata anche per la normale attività fisica che i bambi praticano correntemente quindi una serie di aspetti positivi che siamo molto contenti di fare in un'ottica proprio di servizio alla città grazie